che affrontiamo adesso un po' il tema della dimensione mariana nel messaggio di Fatima anche se forse è la più conosciuta, ma io credo che ci sono alcune sfumature della demozione mariana che mi sembrano importanti approfondire comunque, e perché per finire appunto la dimensione eucaristica o diciamo più presente nell'apparizione dell'angelo vi devo dire che sua Lucia nel suo libro Il messaggio di Fatima finisce qui questo pensare sulla dimensione eucaristica del messaggio di Fatima di come il suonatore di chitarra accorda il suo strumento per armonizzare i suoni così Dio prepara gli strumenti che ha scelto affinché l'eco del suo messaggio giunga armonioso fino al confine della terra cioè così Dio prepara gli strumenti, così con la vita eucaristica questo mi sembra interessante e importante che Dio prepara noi con la vita eucaristica per la misione cioè che senza la vita eucaristica, senza l'adorazione, senza un stilo di vita eucaristico che affronteremo domani quando parliamo di Francesco e di Jacinta senza questo stilo di vita eucaristico forse non siano strumenti dolci nelle sue mani per la nostra misione ossia che l'adorazione eucaristica o di altro modo la dimensione eucaristica che è presente a Fatima non è soltanto per la vita intima di preghiera e di intimità con Dio di questi tre piccoli Francesco, Giacinta e Lucia ma è anche, Lucia ha capito una forma di preparazione alla missione ok? e questa è una sfumatura importante non è soltanto per la intimità con Dio per la crescita dell'amicizia quindi una dimensione personale ma è anche per la missione così Dio prepara gli strumenti a essere pronti per la missione quindi tutto questo che abbiamo parlato questa mattina non è soltanto per la mia santità personale ma è, anzi, per essere preparato a essere un strumento dolci nella mani di Dio per la missione, qualsiasi missione la vostra, la nostra e tutta la Chiesa quindi adesso possiamo continuare a entrare una delle dimensioni più conosciuta del messaggio di Fatima quando si pensa il messaggio di Fatima si pensa alla Madonna no? naturalmente è la Madonna di Fatima è Fatima è vero ma è molto più profondo di quello che può sembrare a un primo sguardo e è così profondo che Papa Francesco quando è andato a Fatima nell'intervento del 12 maggio ha proprio fatto la domanda più importante quando si tratta di affrontare il tema Maria nel messaggio di Fatima il Papa Francesco, come di solito fa le domande difficili cioè quelle domande che vanno giusto giusto all'essenziale lui fa sì, siamo pellegrini con Maria era il tema del pellegrinaggio di Fatima sì, ma che Maria? quale Maria? una maestra di vita spirituale la prima questo non è tradotto, vero? allora dice così pellegrini con Maria quale Maria? una maestra di vita spirituale la prima che ha seguito Cristo per la strada stretta dalla croce dannoci l'esempio oppure una Madonna inattingibile e conseguentemente inimitabile la benedetta per avere creduto sempre e in tutte le circostanze nelle parole divine oppure una Santa a chi si ricorre per ottenere favore a sotto prezzo a basso prezzo grazie vedete la fatica è grande cioè che tipo di Maria scusa il mio modo di parlare va bene di nuovo la mia difficoltà con la lingua ma di che Maria si parla quando si parla a Fatima? perché per esempio questo tipo qui questa Santa che ci dà favori a basso prezzo e tante volte la Madonna che ha a Fatima i pediglini cercano no? non lo so se vi spiego bene questo è molto importante è che la Madonna di Fatima la Vergine Maria Maria di Nazareth insomma l'assunta al cielo che è quella che è a Fatima no? l'assunta al cielo non è soltanto quella piccola Santa qui si chiede i favori sì ma è quella che è benedetta perché ha creduto sempre in tutte le circostanze nelle parole del Signore da un'altra parte non è quella Madonna così piena di privilegi l'immacolata la Regina l'assunta che è tutto vero la Theotokos ma se soltanto questo è così lontano da noi che non ci possiamo imitare quindi il Santo Padre comunque Papa Francesco ci fa questa sfida di cercare il volto giusto della Madonna Fatima quella che di un modo ci può di alcuna forma toccare e ok? di essere presente nella nostra vita quindi la domanda di Papa Francesco è quando voi dicete che siete devoto di Maria di che cosa stiamo parlando vedremo che è molto più impegnativo che quella che sembra un primo sguardo questa devozione mariana ma andiamo perché il tempo corre è interessante che quando Lucia trova la Madonna di fare la domanda di dove è lei cioè cerca in fondo di conoscere chi è la Madonna curioso che la Madonna non dice chi è sai quando quando Anna Maria mi ha presentato mi ha detto il mio nome no Suor Angela che viene da Fatima e fa questo 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 la Madonna non dice il suo nome chi è nell'incontro sono venuta qui a chiedervi di venire qui per sei mesi consecutivo lo stesso giorno la stessa ora poi alla fine vi dirò chi sono e che cosa voglio interessante prima di dire perché lei potrebbe dire subito sono la Madonna del Rosario no ha detto venite qui sei mesi poi vi dirò chi sono cioè prima chiede l'incontro voglio che venite qui poi offre la conoscenza cioè di nuovo la stessa dinamica di cui abbiamo parlato questa mattina quando abbiamo parlato di fede anche Papa Benedetto nella sua encitica Deus Caritas Est di algo come questo al numero uno all'inizio di essere cristiano non è una decisione etica ma è un incontro con un evento che è una persona Gesù Cristo cioè chi vuole capire la Madonna intellettualmente per poi decidere se la ama o non la ama mai riuscirà che vuoi capire tutto del messaggio di Fatima per poi iniziare a vivere mai riuscirà perché la dinamica di Dio la logica di Dio tante volte è il contrario cioè prima chiede l'incontro venite qui poi vi spiegherò chi sono e vedremo che questa logica è un poco di nuovo contro la logica della nostra mentalità razionale che vogliamo sapere comprendere per decidere se ci accettiamo se ci accettiamo o no no e la vita spirituale tante volte è una dinamica contraria cioè il Signore ci chiede di accettare no e poi lui spiega o noi dobbiamo prima vivere la nostra vita nell'amore di Dio e poi tanti anni dopo guardando indietro facendo una rilettura della storia capiamo tutto non è vero che è così cioè alcune volte quando le cose le stanno accadendo non si capisce proprio nulla noi vogliamo capire vogliamo no che tutte le nostre cose sono nelle nostre mani ma non è così cioè dobbiamo e questa è la no è la radice dell'obbedienza consacrata è la sicurezza che il Signore abita anche quello che non capisco cioè che il Signore sta presente anche in quelle situazioni che non capisco totalmente lui già è presente per questo obbedisco quindi la stessa dinamica i bambini hanno fatto per quello quando parlo della Madonna soprattutto in ambiente che so che non sono così con un cuore aperto chiedo sempre la intelligenza del cuore no che che apre il cuore che è alla fine la intelligenza del piccolo del regno quello bambino che Gesù mette in mezzo agli apostoli no è questa cosa qui che chiedo cioè la piccolezza ma non la piccolezza del cuore ovviamente in questo sottolineo per voi credo che non è bisogno che quando stiamo parlando della dimensione marianina del messaggio di Fatima è sempre con la consapevolezza che le apparizioni sono le rivelazioni private cioè che non aggiungano nulla di nuovo alla rivelazione pubblica ma eliminano alcuni aspetti che per oggi il Signore pensa che è importante ok o come di Karl Rahner sono sempre con carattere imperativo cioè una forma di comportarsi per la Chiesa oggi il concetto di Karl Rahner verso le apparizioni le rivelazioni private è interessantissimo lui è molto anche esigente sai dico se la Chiesa approva un'apparizione no lui dice che non deve neanche essere chiamata privata perché non è solo per il bene del del leggente è per tutta la Chiesa e dico che non è una cosa secondaria è una cosa importante perché se Dio ha parlato come posso dire che non è importante non so se mi spiego come si spiego Karl Rahner ok che questo forse è più difficile spiegare Karl Rahner o capire Karl Rahner che è gigante naturalmente ma lui è molto interessante una delle dimensioni della rivelazione pubblica presente a Fatima è questa la presenza e l'azione della madre di Gesù sia nella vita della Chiesa sia nella storia dell'umanità la mia piccola storia personale o la storia mondiale e questo non è poco ok il ruolo di Maria che emerge di Fatima non è nulla di nuovo rimette per l'Evangelo dove si vede Maria che prende cura sia nella Chiesa che nasce e voi ricordate che Maria è presente sempre quando c'è un inizio c'è Maria no? inizio della vita umana di Cristo c'è Maria inizio della vita pubblica di Cristo con i suoi miracoli c'è Maria inizio della Chiesa in Pentecoste c'è Maria cioè la presenza di Maria sia nella vita delle persone di Giovanni per esempio di cui prendi cura di Gesù della Chiesa no? ma anche dell'umanità tutto questo è presente a Fatima tutti questi dimensioni della madre del Signore e per questo io ho preso tre testi questa è una scelta mia personale ok? potremmo scegliere altri ma mi sembrano che sono questi temometri della Regine Maria che sono molto presenti a Fatima cioè lei a Cana Cana? Cana è la donna che intercede per noi che indica il cammino questo è presente a Fatima la donna che custodisci conserva tutto nel suo cuore questa dimensione è presente a Fatima e poi la donna presso la croce Giovanni 19 come vi ho detto tutte queste tre dimensioni dell'azione di Maria del Vangelo la troviamo a Fatima con le tre aspetti fondamentali che la Madonna prende a Fatima la Signora del Cuore Immaculato la Signora del Rosario e la Signora più splendente del Sole che era la forma come i tre bambini più parlavano di questa Signora luminosa vestita del Sole più bianca che la neve luminosa cioè il modo di caratterizzare la Madonna era la parola più usata era luce luce sole bianco che sono tutte parole pasquali vedono con un contesto pasquale luce bianco sole quindi non voglio prendere più il tempo che quello che ho quindi devo andare in fretta quindi dammi fretta la presenza del Cuore di Maria è dall'inizio di nuovo alla fine è altra tematica trasversale al messaggio di Fatima cioè la dimensione trinitaria c'è presente eucaristica e anche mariana dall'inizio alla fine naturalmente sempre insieme a Gesù con l'angelo prima apparizione i cuori di Gesù e di Maria stanno attenti alla voce delle vostre suppliche questa è la prima idea sempre quando con l'angelo appare Maria o la parola Maria sempre unita a Gesù questo è evidente anche nella vostra fede e questo è interessante attenti alle voce della nostra suppliche cioè come Maria stava attenta in Cana perché era attenta no? cioè i sposi neanche hanno chiesto nulla questo è simpatico non hanno chiesto nulla e lei ha chiesto lei ha fatto no? cioè le ha era attenta la seconda cosa fate pregate pregate molti i cuori di Gesù e di Maria hanno su di voi i disegni di mesi ricordi questo qui sta sbagliato e poi quelli come quella che intercede per la conversione dei peccatori quindi la la Vergine a Fatima appare con questa caratteristica a Gesù chiede per le nostre necessità a noi ci indica il cammino fate tutto quello che lei dice comunque l'apparizione dove il cuore di Maria per Lucia personale microstoria ha un'importanza più grande è quella di giugno sapete bene che alla fine di maggio quando la Madonna fa la domanda volete offrirvi a Dio i bambini hanno risposto sì vogliamo quindi avete tanto da soffrire finita la storia no? Lucia chiede agli altri due di fare silenzio cioè non parliamo di questo ok? ma Giacinta che aveva sette anni no? quindi una ragazzina è felicissima perché la signora era molto bella e questo è anche interessante quello che ha colpito i pastorelli era la bellezza della signora non era la promessa del cielo no che signora così bella anche questa è una caratteristica pasquale la bellezza no? la via di accesso a Dio è anche la bellezza la bellezza come un attributo divino diciamo così no? che signora bella no? da cova dai via alla casa dei loro genitori no? stava sempre così esultante di gioia no? che quando Lucia diceva ma dai Giacinta tu stai zitta sì sì te lo giuro te lo giuro non dico nulla a nessuno ma lei è così bella sai questo te lo giuro che non dico ma è così bella te lo dico è così bella quando ho visto la mamma subito parlano abbiamo visto la madonna una signora così bella è interessante che Lucia la prese no? e dice ma dai Giacinta come proprio hai parlato e lei ha risposto non so come fu ma io avevo così dentro una cosa che non mi lasciava essere zitta zitta aveva cadendo una cosa cioè questo fuoco della testimonianza vero? perché noi offriamo agli altri testimonianze di Gesù? perché c'è qua dentro una cosa che non ci lascia essere in faccia non è vero e se non è quello noi non parliamo di Gesù a nessuno perché è difficile cioè di nuovo una contracultura contracorrente sai che è gli stessi sentimenti che hanno avuto i discepoli di Emmaus no? di Emmaus capite Emmaus? quando ha trovato Gesù il risorto e bruciava il cuore è la stessa dinamica cioè proprio Giacinta ha avuto contatto con il risorto anche se era la madonna l'ha assunta al cielo di nuovo ma è la stessa realtà non lo so se mi spiegano cioè questo non è soltanto un bambino con sette anni che parla troppo no no è molto più di questo è una bambina totalmente presa della vicissia con il risorto che non c'è altra cosa che parlare si deve parlare quando si ama si parla e se non parliamo forse ok? mi spiego quindi iniziano le sofferenze in quello giorno proprio per Lucia i genitori di Francesco e Giacinta hanno creduto subito papà di Francesco chiama Francesco e di ma Francesco è vero quella che la tua sorellina sta dicendo e gli dice si papà è vero abbiamo visto la madonna quindi di il papà è vero perché il mio Francesco mai dice una bugia tre meglio no? si si per il papà di Francesco per i genitori dei due pastorelli santi il problema è risolto perché il mio Francesco mai ha detto una bugia soluzionato la povera mamma di Lucia che era una santa signora ok? era una santa signora ve lo dico ha detto Lucia ma che cosa stai parlando ai tuoi cugini eh sì mamma abbiamo visto la madonna è una bugia perché tu non sei buona il sufficiente per vedere la madonna quindi è una questione di merito che non c'è ok? quindi è il suo sbaglio non era cattiveria credo non era cattiveria era soltanto che la povere mamma era confusa poi lei diceva come si può fare questo la gente adesso lascia la chiesa per andare davanti un albero un albero albero a pregare cioè e lei aveva ragione cioè qual è il senso di lasciare la chiesa e andare davanti un lezzo cioè non è quindi la vita di Lucia ha cambiato proprio nel giorno della prima apparizione finisce la pace fino alla fine sto parlando di più 80 anni di vita ok? mai la povere Lucia ha avuto una vita tranquilla serena senza difficoltà o senza croce e noi tanti volte ci lamentiamo signori ti seguo con tutto il mio cuore perché queste cose mi accadono no? perché questa croce perché questa difficoltà perché la povere Lucia poverina ok? da quel giorno in poi inizia a avere la croce in tale modo che lei che ancora non capisce tanto della vita spirituale ok? sia maggio voletti offrirvi a Dio sì vogliamo tutto il coraggio no? tutto come il nostro inizio vocazionale no? sì signore poverino un mese di sofferenza io a giugno sai qual è la prima domanda che fa Lucia la Madonna vorrei chiedergli di portarci in cielo cioè basta questo è fantastico no? fantastico questa domanda di Lucia la Madonna mi sembra così umana così nostra no? perché sai fino a maggio la vita di Lucia era una gioia una famiglia incredibile dove tutti si amano cioè aveva un problema ma lei era la piccolina la più amata era la stella sai? e subito diventano responsabili per tutti il problema della famiglia della parrocchia e poi di Portugale e poi di Mello poverina no? quindi un mese di sofferenza e per Lucia finiamo la storia quindi dia la domanda alla Madonna vorrei chiedere di portarti al cielo e la Madonna risponde e si Jacinto e Francesco li porto fra poco ma tu resti qui ancora per qualche tempo qualche tempo 80 anni ok? più 80 anni si per poco no? è relativo il tempo per Dio si sa questo no? Gesù vuole servirse di te per farmi conoscere e amare e gli vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato questo è importante perché in questo momento Gesù vuole servirse di te per farmi conoscere e amare Lucia sta conoscendo la sua vocazione quindi è il momento per Lucia è solene ok? ma si vede per la reazione che lei non capisce nulla né di vocazione né di interesse proprio cioè la cosa che lei risponde è soltanto alla prima parte che già scelta e Francesco si moriranno presto quindi lei reagisce resterò qui da sola questo dialogo questo dialogo fra Lucia e la Madonna è molto interessante interessante anche la risposta della Madonna cioè la Madonna non è che salta sulle domande umane di sua Lucia perché la solitudine cari amici è una delle grandi ferite della umanità anche nostra cioè e tante volte la solitudine ho letto un libro fantastico su questo oggi anche oggi è considerato come una cosa quasi bello drammatica no? i depressa i quasi come se fosse ma la cosa interessante è che la solitudine anche antropologicamente è importante cioè i grandi momenti della nostra vita sono vissuti da solo vero? la nascita e la morte sono soli sì noi che accompagniamo malati a morire anche se noi siamo di là quel momento è unico anche Gesù ha vissuto i momenti della sua vita molto da solo e non è soltanto l'agonia nel Getsemani ok? vi ricordate quelli momenti per esempio quando Gesù sta dicendo ai discepoli io mi vado a morire no? che cosa hanno risposto gli apostoli? come? moriamo con te sì questa è una parte ma sai una cosa che a me quando Gesù una volta sta parlando della sua morte i discepoli si voltano a Gesù e chiedono signori quando è il più importante? vi ricordate questo? quando Gesù annuncia per tre volte la sua morte e due volte credo loro non affrontano una questione saltano per un'altra quale fra di noi è il più importante? io credo che Gesù in quel momento sia sentito molto solo cioè sto parlando della mia morte e la tua preoccupazione è chi è il più importante mi spiega cioè quindi non lo so fino a che punto Gesù si è sentito accompagnato dai suoi amici non lo so non è soltanto in agonia è proprio nella sua vita perché questa noi abbiamo tante volte questa difficoltà c'è qualcuno che mi capisce mi conosce fino in fondo? anche se sono sposati o con una bellissima comunità cioè la solitudine è trasversale all'essere umano e noi come consacrati abbiamo anche di avere questo coraggio di essere da solo davanti a Dio pregando per i nostri fratelli e sorelle offrendo la vita non lo so se vi spiego cioè ma avere questa sicurezza che la nostra solitudine è accompagnata per qui almeno per la Madonna e per il Signore cioè questa sicurezza che offre la Madonna quando Lucia di resterò qui da sola domandai addolorata la Madonna mi spose no figlia mia tu mi soffri molto non ti scoraggiare io non ti lascerò mai quindi continuiamo io credo che questo annuncio è anche importante per il nostro mondo sai perché tanta gente veramente soffrono la solitudine come una cosa pesante e pesante è come sì come Lucia capisce che sarà la sua vita nel momento in poi da sola no e la Madonna dice no non ti scoraggiare io non ti lascerò mai e vi devo dire che questa è stata la sicurezza più radicale di sua Lucia quando si legge il suo diario vi garantisco che si trova molto di più pagine sulla Santissima Trinità di Gesù che su Maria e quando si trova su Maria è sempre questo Maria è come l'atmosfera dove cresce la sua intimità con Dio non so se vi spiego sì Dio è il suo amore Dio è un nitrino Dio è un caristiano no è proprio il centro della sua vita ma la Madonna è questo cuore immaculato che l'accompagna cioè è la casa dove cresce il suo rapporto con il Signore e questa è stata nella lunga vita di Lucia piena piena di difficoltà di incomprensione di solitudine di ultragi di mentire di bugie poverina sua Lucia ha sofferto credo che tutto quello che noi possiamo pensare tutto il contrario di tutto ma la sicurezza più radicale era questa che il cuore di Maria mai la lascerà quindi il mio cuore sarà il tuo rifugio e il cammino che ti condurrà fino a Dio rifugio e ritorniamo qui fra poco perché continua a intercedere per noi come in Cana per quello la Madonna è il nostro rifugio ok perché oggi continua a dire al Signore quello che ci manca cioè oggi continua a pregare per noi cammino perché ci indica il modo della sequela a Cristi con il suo modo di essere con la sua esemplarità e il cammino perché con il suo modo di essere è esempio per noi come essere discepoli di Cristo penso un po' si San Paolo abbiamo ascoltato ieri nella messa di domenica no? ieri era domenica sì alla fine della seconda lettura Paolo ha detto questa cosa meravigliosa forse non vi ricordate siete mi imitatori come io sono di Cristo si Paolo può dire questo quanto meno la Madonna può dire questo quanto di più no? si Paolo può avere questo coraggio di dire al suo comunità imitatemi perché io ho detto Cristo e la Madonna non può dire lo stesso quanto di più cioè è la stessa dinamica chi ha detto questo è stato Ratzinger nel suo segreto ha proprio colto quella parola di Paolo ai Corinzi siete i miei imitatori come io sono di Cristo e ha detto si Paolo può dire questo alla comunità alle sue comunità la Madonna può dire lo stesso qui a Fatima a noi quindi per questo è il nostro cammino perché il suo mondo di essere è per noi esempio nel discipolato di Cristo ok? il Cardinal Grazinger spiegherà ma c'è un'altra apparizione in questo volevo fermarmi un poco che è la terza l'apparizione dell'Ulio dove il cuore di Maria emerge con tutta la sua potenza mondiale nel mondo nella storia del mondo nella storia della Chiesa ok? Dedichiamoci cinque minuti a questo perché mi sembra importante forse è la parte meno valorizzata della devozione al cuore di Maria che per tanti di noi è soltanto una cosa privata fra mi me e Maria che dimentichiamo questa dimensione ecclesiale mondiale che il Signore nella sua misericordia ha voluto che emergesse di Fatima ok siamo queste sono alcune parole soltanto nel famoso segreto di Fatima ok? tre parti prima parte è l'inferno seconda parte la storia mondiale con tutte le guerre persecuzioni e sofferenza terza parte la sofferenza della Chiesa state con me? sì ok? pensate un poco questa è la grande dimensione profettica di Fatima sottolineo questo no? Fatima non ha soltanto una dimensione mistica cioè il mio rapporto con Dio Fatima ha anche una dimensione profetica cioè Dio continua con noi a camminare con noi preoccupato con noi con la nostra storia e desidera che la nostra amicizia con lui dimensione mistica si esprima nel mio compromesso impegno grazie mi mettiamo questa parola nel mio impegno con il mondo ok? questo sai il sumario è la importanza di Fatima non è che Dio soltanto mi viene a dire ti voglio molto bene Angela Angela ti voglio bene ma voglio bene anche ai tuoi fratelli sorella quindi vuoi cooperare con me per la salvezza e per la pace mi spiego cioè non è soltanto il mio rapporto personale la mia santità personale la mia intimità con Dio la mia dimensione mistica che interessa Dio con il messaggio di Fatima è anche la storia mondiale anche la salvezza e anche la pace per quello il segreto di Fatima è tremendo i copri sia la scatologia l'aldilà l'inferno sia il tempo il nostro tempo cronologico sia la scatologia sia la storia per quello i bambini i tre bambini profeti come ha chiamato Franco Manzi che è stato con voi o no richiamare questi tre bambini profeti il Signore gli fa sperimentare la storia umana sia nella sua dimensione scatologica sia nella sua dimensione cronologica ma in mezzo di questo è questa frase incredibile avete visto l'inferno cioè dopo la visione dell'inferno ok dove cadono le anime dei poveri peccatori poi questa frase incredibile ripeto è una frase per salvarle Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato se faranno quel che io vedirò molte anime si salveranno e avranno pace se no questo qui toglie un poco no perché non metto tutto il testo se no avrà una guerra ancora peggiore e poi la terza parte del segreto sai che questa frase ha colpito il cuore e la mente di Ratzinger cioè pensate un poco Ratzinger è tedesco vero? quindi viene di una cultura tedesca come sacerdote come teologo e sappiamo che in Germania non è che la devozione a Maria è molto grande perché è una grande influenza protestante ok quindi l'amore alla Madonna per esempio non è come in Portogallo in Portogallo i nostri paesi latino-americani il sud d'Europa e nasce con la mamma cioè io amo Maria senza il grebo materno credo cioè è naturale ma per una mentalità tedesca non è così cioè l'amore alla Madonna è quasi praticamente nelle feste liturgiche a me non mi hanno spiegato perché ho chiesto e perché mi hanno spiegato perché c'è una frase qui di Ratzinger che mi ha sorpreso nel commentario al segreto di Fatima cioè pensate un poco Giovanni Paolo II un Papa Polacco con tutto questo che significa un uomo che ha sofferto nazismo comunismo ok chiede chiede cioè un uomo che ha sofferto le conseguenze della Russia che è la seconda parte anche del segreto chiede a un Papa tedesco cioè chiede a un uomo tedesco di fare un commento a tutti il segreto questo Papa geniale non Papa prefetto ok intellettuale teologo ma tedesco scresse questo c'è c'è la prima e seconda parte del segreto di Fatima tararà come via a questo scopo cioè la salvezza degli animi dell'inferno e la pace viene indicato l'ego in modo sorprendente per persone provenienti dell'ambito culturale anglosassoni tedesco la devozione al cuore di Maria questo è fantastico cioè vedi che cosa di Ratzinger stiamo parlando dell'inferno inferno stiamo parlando delle guerre mondiali andiamo adesso a parlare della sofferenza della Chiesa la soluzione di un modo sorprendente per una mentalità tedesca è la devozione al cuore di Maria lui sta dicendo io ho avuto difficoltà in capi di questo non è vero ma sai perché io amo anche Papa Benedetto in questo momento è perché lui non dice la soluzione è sorprendente quindi forse i bambini si sono sbagliati o la soluzione è sorprendente forse non è bene così no? ha detto la soluzione è sorprendente ma Dio ha voluto la affrontiamo non lo so se mi spiego mi hanno mi seguiti cioè è forte lui assume l'argomento è difficile ma lui non ha in fronte perché perché Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al cuore di Maria è fantastico guardate bene che le due parole fondamentali sono salvazione e pace per salvare Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al cuore immaculato si faranno quello che io vi dirò molte anime si salveranno e avranno pace cioè la parola scatologica salvazione e quella per il nostro tempo la pace diciamo che può fare un sumario di tutto il bene la pace non mi sembra poco che queste due realtà sono della responsabilità del cuore immaculato di Maria mi spiego e noi che cosa facciamo e come capiamo questo quindi la mia sfida per voi è leggere il commento di Carlo Arrazzinger perché lui affronta gli è tremendo perché il Papa va a spiegare perché cosa significa devozione al cuore di Maria naturalmente spiega che cuore nel senso biblico significa tutta la persona ok non è soltanto il muscolo cardiaco naturalmente quello che meno importa quando si parla di cuore parlasi della volontà libertà memoria affettività se parla della persona un cuore immaculato che questa parola è esclusiva di Fatima cuore immaculato di Maria è Fatima cioè la devozione al cuore di Maria era già antico nella chiesa ma non il cuore immaculato questo è proprio di Fatima no? cuore immaculato significa che questo cuore cioè la totalità della persona è arrivata a una unità interiore purificata allo sguardo per Dio quindi è un cuore immaculato quindi che cosa significa avere devozione al cuore di Maria e lui va spiegando no partito di questa espressione di nuovo rifugio perché intercede per noi non ha novino cammino la sua esemplarità perché dice che questo cuore è arrivato a un centro unitario che è un atteggiamento della Madonna che è il suo fiat al padre si è fatta in me secondo la tua volontà quindi Cardinal Razzini spiega devozione al cuore immaculato di Maria e avvicinarsi a questo atteggiamento del cuore nel quale il fiat si è fatta la tua volontà diviene il centro informante di tutta la mia esistenza questo lui è molto chiaro cioè essere devoto della Madonna non è portarci fiori alla Madonna alle statue no questo è importante ma è secondario essere devoto della Madonna non è soltanto accendere le candele è importante ma comunque secondario la cosa più importante della devozione è avvicinarsi alla stessa appeggiamento del cuore di Maria nel quale il mio fiat sia il centro informante di tutta la mia esistenza questo è avere devozione a Maria per questo lei è il cammino per il Signore non lo so se non mi spiego cioè se non mi spiego bene caro non grazie nella terza parte del segreto ma è questo quindi la parte diciamo personale della mia devozione è che quando io veramente sono devoto di Maria quindi mi avvicino di questo atteggiamento dove il mio fiat al Signore è il centro conformante di tutta la mia esistenza e poi capire come lei ha promesso a Fatima che alla fine il mio cuore immacolato trionfarà che cosa significa questo trionfo del cuore di Maria significa che quando io obbedisco alle sue richieste che lei ha parlato a luglio rosario ogni giorno consacrazione e primi sapati e riparazione che sono le sue tre domani a luglio quando io rispondo di sì a queste cose apro il mio cuore all'azione dello spirito santo in tale modo che lui lo spirito può conformare il mio cuore al cuore di Cristo e lei trionfa qui ripeto che cosa significa sai perché mi fanno sempre questa domanda che cosa significa il trionfo del cuore di Maria che cosa sarà no io per tanto tempo diceva sempre che cosa non era il trionfo del cuore di Maria cioè non può essere una cosa spettacolare sensazionalista perché mai è stato così nella stata scrittura ok quindi è una cosa intima privata con impatto mondiale e che cosa è questo quando io per i miei rosari la mia consacrazione al suo cuore vacolato e la mia riparazione dei primi sappati apro il mio cuore in tale modo che lo spirito santo può trasformare il mio cuore secondo il cuore di Gesù quindi lei trionfa tutto questo è luglio ovviamente che la riquesta della madonna per la faccia del mondo per la salvezza sono anche una grande sfida per la nostra intelligenza ma è la nostra obbedienza che è il gioco mi spiego conoscete bene quella passaggio dell'antico testamento del sirio naman naman si dice naman il diverso naman questo uomo un generale potente desilia questo generale poverino ha la malattia di ieri sempre lepra desilia cioè non era del popolo lui ha ascoltato sentito parlare che un profeta guariva la lepra che come abbiamo sentito ieri era una malattia che finisce la vita sociale cioè è morto anche se è vivo è morto no? questo uomo generale con tutti i suoi cavalli cavalieri sequina va a Gerusalemme parlare con il profeta il profeta ne parla con lui direttamente non lo tratta come così e li manda bagnare sette volte nelle fiume giornali conoscete bene no? e il namam si arrabbia perché ho fatto tutto questo viaggio il profeta mi parla con me sono sono importante ho fatto tutto questo lavoro il profeta non parla con me e mi manda bagnare cioè perché non posso andare a bagnarmi in zilia nella bane nel farfà no? e questa sappiamo le diceva padre o me no se il profeta ti avesse ordinato qualcosa di difficile tu non la facevi perché non fai una cosa semplice che è bagnarti nel fiume sette volte sai che io credo che le domande le richieste della madonna in contraponto alla salvezza e la pace per noi la reazione è la stessa ma come la salvezza di tante anime e la pace dipendente della richiesta della madonna e il rosario riparazione consacrazione non mi sembra io credo che noi abbiamo tante volte lo stesso atteggiamento del silia silio nano non lo so se mi spiego ci sembra troppo poco per grazie così grande e la verità è che tante volte forse non noi ma altre persone mi leggenziamo no come ne vedete portoghese con l'accento inglese italiana non offriamo importanza a queste richieste della madonna ok quindi mi sembra che dobbiamo ascoltare queste richieste con un cuore umile sai che Cardinal Ranzinger quando è andato in Portogallo nel 96 ha fatto un programma di radio di radio Redescenza che è una della catena di radio più importante di Portogallo catodica ma anche con tutti i tipi di programmi gli ha detto una cosa aspetto di dire più o meno in italiano lui ha detto uno degli sbagli più frequenti anche fra noi cristiani anche fra noi cristiani è pensare che soltanto le grandi riunioni politiche decisioni economiche hanno impatto nella storia mondiale e quindi si perde la interiorità ora a Fatima abbiamo sentito parlare di cose nascoste come preghiera conversioni penitenza che sembrano non avere importanza politica nessuna ma sono le cose più importanti sono la forza che cambia il mondo credo che ho tradotto più o meno cioè questo rapporto fa queste richieste della Madonna così semplici e l'impatto di queste richieste è così desequilibrato che proprio Razzine l'assume in questo programma e è scritto in Portugale in tutti i tipi di libri è un errore anche fra di noi cristiani pensare che soltanto il grande riunione ha l'impatto mondiale quindi si perde interiorità a Fatima abbiamo sentito parlare di cose nascoste preghiera conversioni penitenza che sembrano non avere impatto politico nessuno ma invece sono una forza che trasforma che cambia il mondo ok è questa logica che io credo che dobbiamo imparare con Karina Razzine guardando a queste apparizioni della Madonna va bene? ma io penso che qui la storia che in qualche modo ci dice perché 81 84 la consacrazione con i vescovi al cuore e 89 cade in muro di Berlino e Gorbato quando viene a Roma parla di questo perché qui sono proprio i politici parlano di una forza che non riescono a capire che cosa è successo sì sì la storia ha già dimostrato questo è vero sono totalmente d'accordo cioè con l'evento 13 maggio 81 cioè l'attentato a Giovanni Paolo II che cambio sullo sguardo perché prima Giovanni Paolo II sappiamo era molto molto devoto della Madonna totus tuus ma il suo sguardo non era sul Fatima e quello 13 maggio 81 che fa lo sguardo del Papa cambiare e capire il messaggio di un modo diverso e cambia la storia della Chiesa che credo con quello sguardo cioè non credo sono sicura anche Lucia era sicura anche sua Lucia era molto sicura ma noi poi pian piano perdiamo la fede in queste cose almeno c'è questo rischio dico di nuovo forse non con voi ma è bene sempre rifrescare queste cose e per quello il rosario che la Madonna chiede è una preghiera così innocente apparentemente così fragile così umile che uno fa fatica a capirla come questa grande ora preghiera per la pace e per la salvazione dei tanti anni è interessante che sai quando io penso che l'evangelista Luca di due volte che Maria custodiva tutto nel suo cuore no? le due volte sono a Bethlehem con la nascita di Gesù e i pastori che lo visitano e poi in Gerusalemme quando lei perde il bambino Gesù no? ok? due volte in Bethlehem e in Gerusalemme è proprio il luogo dove la vita di Gesù tutta inizia e finisce cioè la vita di Gesù finisce in Gerusalemme con la sua morte la sua Pasqua e anche l'accensione cioè la vita umana si capisce quello che dicono naturalmente loro mi ok? non sto dicendo nessuna eresia teologica la umanità di Cristo si passa c'è fra Bethlehem di Gerusalemme quindi che cosa la Madonna custodisce nel suo cuore tutti i pistelli della vita di Cristo cioè la vita di Cristo per quale la Signora del Rosario che cosa è il Rosario se no tutta la vita di Cristo custodito nel cuore di Maria per quello è interessante che quando la Madonna chiede il Rosario a maggio i bambini fino a maggio non pregavano bene il Rosario no? voi sapete no? era un Rosario abbreviato no? una formula brevis con Ave Maria e Santa Maria e Pagano Nostro perché volevano giocare e tutto il tempo era fuoco queste cedici che erano bambini normali no? normali cioè volevano obbedire ai genitori ma allo stesso tempo volevano giocare quindi due minuti era il Rosario quando la Madonna chiede il Rosario a maggio Jacinta ricorda forse adesso è meglio pregare l'Ave Maria completa l'interessante che a maggio chiede il Rosario giugno chiede il Rosario luglio chiede il Rosario agosto chiede il Rosario settembre ottobre quando alla fine di sonno la Madonna nel Rosario loro già capiscono perché pregavano il Rosario ogni giorno vedi? prima l'incontro poi la conoscenza è sempre così se uno deve capire bene la importanza del Rosario per iniziare a pregarlo mai lo pregherà ok? iniziamo a pregare perché il Signore ha richiesto c'è obbedienza poi capiamo tutto sul Rosario ma non il contrario ok? perché prima la Madonna chiede il Rosario poi dì che è la Madonna del Rosario e loro capiscono molto bene cioè la identità della Madonna ci viene rivelata più che da un nome di un atteggiamento che è la preghiera del Rosario naturalmente il Rosario per non vi fare perdere tanto tempo a me c'è una cosa molto importante nel Rosario una naturalmente per la pace ok? ha chiesto così la Madonna che cosa posso dire io per la pace ok? vogliamo la pace meglio pregare il Rosario ok? cioè possiamo fare tutti altre cose naturalmente ma io credo che con quell'atteggiamento del Sio Naman se il Signore chiede lo faccio ok? senza grande confusione teologica pastorale ha finito questo? sì siamo qui? sì ok la preghiera del Rosario senza dubbi per la pace va bene? ma c'è altro aspetto che a me mi sembra interessante che il Signore mi ha fatto capire negli ultimi anni sulla preghiera del Rosario che è proprio la configurazione con Cristo e di nuovo cioè ho raccontato questa storia tante volte ma cioè uno impara con la sua propria esperienza quindi io era nel primo anno del noviziato quando ho avuto la mia prima grande crisi vocazionale come vi ho detto ho già tante crisi vocazionali che sono un'esperta in crisi vocazionali mie e degli altri cioè ho già capito tutto delle crisi adesso la grazia di Dio per adesso non sono in crisi ma non si sa mai ma un giorno ero in crisi pensate proprio per questo perché? perché cioè mi ha fatto tanta fatica lasciare la mia famiglia ok? era così difficile lasciare la mia carriera vi dico di canale la verità cioè io volevo essere un medico famoso no? eh ok il signore mi chiamava mi ha fatto fatica lasciare tutto che ho detto adesso se sono qui e mi accostaggio tanto io voglio essere santa ok? cioè che valga la pena capisce no? poi ho deciso io decido essere santa primo sbaglio no? io ok ma io non sapevo in quel tempo che il problema era io e quindi mi ricordo di essere davanti al signore Gesù e tentare capire che cosa no? devo essere per essere una santa devo essere una brava suora ma per essere una brava suora devo essere una brava cristiana no? tutto logico per me deve essere logico ok ho pensato io lavoriamo con la dimensione cristiana della mia vita io voglio essere ok? quindi ho cercato che cosa significa essere una buona cristiana mi sembrava che i dieci comandamenti non erano abbastanza perché il giovane ricco di cui abbiamo parlato faceva tutto ma rimancava qualcosa ho pensato Dio mio più che i dieci comandamenti mi sembrava già difficile i dieci comandamenti quindi ma no più quindi mi sembrava che non era soltanto fare il bene cioè queste cose quindi un giorno ho letto San Paolo le lettere a San Paolo no? gli sono iniziati i miei problemi io credo che uno che non vuole il problema non lega San Paolo che lui porta sempre il problema stavo leggendo San Paolo quando lui spiega che cosa è essere un buono cristiano che non è soltanto seguire Cristo è diventare Cristo ok? lui dice quello nella lettera ai Galati Efesini e altre parti ok? ma in quel giorno e poi i filippesi avete in voi i stessi sentimenti di Gesù ho capito? ho detto facile e avere in mente i stessi sentimenti di Gesù ok? mi ricordo in quel giorno quando ho capito sai? era quasi come una illuminazione sai? è facile quindi Anna Maria forse riconosci la mia casa dove abito io è molto piccola ok? veramente piccola anzi dobbiamo costruire un'altra per quella andavamo tanti volti alla vostra casa perché non avevamo niente spazio per pregare ok? veramente piccola la mia cappella cinque passi siamo in cucina ok? quindi proprio tutta la mia casa forse non lo so in quel tempo eravamo 14 suori novizi giovanissimi affamati ok? soprattutto prima colazione ok? quindi la mia preghiera questa mattina mi ricordo novizia io che il Signore Gesù oggi io avrò i tuoi sentimenti sempre sarò sempre simpatica con pazienza per le mie consorelle con una bella sorrisa sempre sono io perdonerò tutto quello che mi faranno le mie consorelle sai morning lode no? io con i stessi sentimenti di Gesù perché voleva diventare santa ok? quindi finisce la preghiera e la colazione cinque passi siamo arrivati in colazione e noi abbiamo soltanto un micro come si dice microonde quindi era quello che Obama chiamava la conquista mattinale del microonde perché era una fila si dice fila di suori affamati per il suo turno del microonde cioè arriva il mio turno ma questo è stato sul serio cioè adesso scherzo ma era il mio turno di mettere la mia tazza quando un'altra sorrida mi passa e fa e mette la sua prima del mio sai dove sono finiti i stessi sentimenti di questo successo ma subito iniziarsi ma che cosa stai facendo mettermi in fila questo è mio turno tu aspetta che cosa fai la poverina pensava che ha fatto un atto di terrorismo non so e io ho avuto una reazione sai disproporzionata ma una io mi sono arrabbiata ma proprio arrabbiata perché la poverina ha avuto il coraggio oltraggiante di passarmi in fila sai in quel momento io ho capito mai lo farò mi spiego cioè avere i sentimenti di Gesù quando alla prima cosa che piccola mi esplodo mi viene una esplosione con il mio carattere e tutto ho detto non la faccio e sai che ho entrato in crisi perché ho pensato non la faccio cioè non sono capace ovviamente era tutto sbagliato dall'inizio alla fine ma sai come queste cose noi all'inizio non conosciamo tutta la dinamica spirituale chi conosce la dinamica spirituale conosciamo che voglio fare faccio basta ma no ho entrato in crisi ho parlato con la mia superiore al mestre di rovizie direttore spirituale ma nessuno sai riusciva che questo rapporto fra libertà e provvidenza voi capite io non lo capisco ancora oggi cioè è la mia libertà ma il signore chi fa ma chi fa il signore è un io per me è sempre una confusione queste cose ancora oggi ancora oggi sto qui questo rapporto fra libertà umana e provvidenza divina ancora oggi vedi come sto indietro nella vita spirituale sono ancora qui ma comunque parlava parlava ovviamente non ha lasciato la vita consacrata mi hanno aiutato io pregava sai me era così sai un giorno Giovanni Paolo II San Giovanni Paolo II scrive la lettera sul rosario rosario virgine smaria 2002 ok è finita questa crisi il 16 ottobre 2002 quando esce la lettera io la leggo il numero 15 ok potete controllare il numero 15 il papa di questo ok ascoltati bene il rosario ci trasporta misticamente accanto a Maria e questo permette a lei formarci e plasmarci fino a che Gesù sia formato in noi pienamente e lui cita proprio la lettera al Galatas cioè quando io prego il rosario vado misticamente accanto a Maria e che cosa fa in Maria con il mio rosario lavori il mio cuore con il mistero di Cristo che lei custodisce finché lui sia formato in me è semplice io mi ricordo sai di dire il signore il rosario io lo so prepari quindi io prego il rosario è la mia parte e tu gli fai il resto perché non la faccio più sai mi ha dato una sai ok è una parte che è sua la mia il rosario ho detto signore il rosario io lo prego il meglio che posso adesso poi ho capito ovviamente che cosa lei custodisce nel rosario il mistero di Cristo il mio mistero perché io credo che nei confronti con il mistero di Cristo è il mio mistero che io capisco alla fine vi ricordate l'esperienza di maggio ci vedevano a loro stessi nella quella luce questa è l'esperienza del rosario perché io credo che Maria non soltanto costodisce il mistero di Gesù costodisce anche il mio mistero personale sai perché sono un mistero alla fine anche a ognuno di noi non lo so se mi spiego quindi io dico come Giovanni Paolo che non prego il rosario a Maria prego il rosario con Maria contemplando lo volto lo sguardo di Cristo e questo cambia tanto questo piccolo cambio di prospettiva sai cambia tanto della forza e della potenza di questa preghiera prego il rosario con Maria contemplando insieme a lei con i suoi occhi con il suo cuore il mistero di Cristo è il mio proprio mistero va bene quindi questo è un aspetto della preghiera del rosario che credo che deve essere sottolineata anche quando parliamo del rosario cioè è una preghiera cristologica ma che ci porta alla configurazione con Cristo e questi amici miei è la santità la santità è la configurazione con Cristo ognuno di noi ha il suo modo con le sue capacità il suo strutturo il suo essere di Brasil dei Stati Uniti di Africa di Asia ovviamente tutto santità diverse perché siamo persone diverse culture diverse ma è sempre configurazione con Cristo e per finire la signora più splendente del sole è la donna sotto la croce io credo che è qui che radisce la forza dell'impatto di Maria nella vita del credente veramente sempre Lucia quando parlavo della Madonna era sempre luminosa da maggio vediamo sopra un legge una signora vista tutta di bianca più luminosa del sole l'esperienza di maggio della luce eravamo così vicini che restavamo immersi nella luce che la circondava o che lei diffondeva cioè chi si avvicina di Maria finisce immerso nella luce che è Dio sempre questa dinamica si vede sempre eravamo così vicino che restavamo immersi nella luce che la circondava o che lei diffondeva Lucia ha le difficoltà a dire proprio dove è che la luce più è che la luce no? ma ovviamente è nella terza parte del secreto che si vede bene questa donna luminosa che guarda al cammino della chiesa e questo si deve anche parlare sai io credo che la terza parte del secreto il nostro Papa Francesco capisce molto bene cioè voi potrete dire ma non è Giovanni Paolo II con il sì anche perché come sappiamo i bambini di Fatima quando hanno visto il vescovo vestito di bianco non hanno sentito il nome perché non è il Papa X o il Papa Y è il Papa ma la visione della terza parte del secreto è proprio una chiesa che per me è la chiesa di Papa Francesco o come Papa Francesco capisce la chiesa meglio così ok? sai io credo che Giovanni Paolo II ha avuto una relazione personale unica con la Madonna di Fatima Cardinal Ratzinger con il messaggio di Fatima credo che fra i tre papi è quello che capisce meglio il messaggio Papa Francesco con la chiesa che emerge Fatima mi stanno accompagnando? vedremo nella terza parte del segreto ok? questa è la mia intuizione vale quello che vale ossia quasi nulla ma si vede sai si vede guardando ai papi i rapporti con Fatima gli ultimi si vede che Giovanni Paolo è con la Madonna sembra quasi personale no? con la Madonna di Fatima con la statua anche cioè come lui offre la l'alleanza come lui offre cioè come lui la tocca incredibile Giovanni Paolo Cardinal Ratzinger benedetto sedicesimo il messaggio la capisce bene 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 anche il rapporto con Lucia Papa Francesco questa chiesa vediamo e nella prima parte del segreto c'è un angelo con una spada di fuoco ma che emetteva fiamme ma si spegnevano al contatto dello splendore che il nostro Signore emanava cioè nella terza parte del segreto nel segreto non possiamo dimenticare questa donna nel suo splendore ok poi che cosa vedono la chiesa che cammina guidata dal Papa vediamo una luce in mezza che è Dio qualcosa di simile a come si vedono le persone un vescovo vestito di bianco abbiamo avuto il presentimento che fosse il Santo Padre e la chiesa vescovi sacerdote religiose salì una montagna ripida in cima alla quale c'è una grande croce qual è la meta del cammino la croce questo è chiaro è una chiesa che cammina indietro il suo Papa ok ma cammina in direzione a una croce ovviamente c'è una montagna ripida cioè è difficile è quello che significa ripida no? in portoghese la parola è incredibile è scurosa questo significa proprio molto difficile non è difficile la parola è scurosa è anche più sai cioè il più difficile che può avere di una montagna ma e questo è interessante prima di salire sulle montagne questa chiesa che è una chiesa pellegrina cioè una chiesa che cammina attraversò una città mezza in rovine cioè prima di andare alla montagna questa chiesa va alla città in rovine questa è la chiesa di Papa Francesco in uscita no? una chiesa che va laddove ci sono le rovine questa è la chiesa che vuole Papa Francesco non è vero c'è una chiesa che non lascia la sua città da sola con le sue rovine mi spiego le rovine naturalmente può essere un cuore umano una famiglia una comunità una città cioè la chiesa come proprio un ospedale di campagna chi parla mi sembra proprio questa chiesa che si vede a Fatima cioè una chiesa che si fa pellegrina con i suoi fratelli là dove ci sono riferite questa è la chiesa ma naturalmente sempre guardando alla croce e al crocifisso che è la meta del cammino e anche la forza perché questa chiesa che cammina attraverso le città va su questa montagna e quando arriva alla grande croce ai piedi della grande croce viene uscito da un gruppo di soldati che risparano vari colpi di armi di fuoco e allo stesso modo morirono gli uni dopo gli altri vescovi sacerdoti religiose religiose varie persone uomini e donne di varie classi posizioni cioè il martirio la sofferenza della chiesa vede qui la vostra comunità ma non è una chiesa che soffre da sola chiusa no no è una chiesa che soffre fra e pellegrina in mezzo alle rovine ok questa mi sembra una visione che Papa Francesco capisce bene e che vuole che la chiesa sia così come voi viete il vostro carino non è proprio in mezzo alla sofferenza delle persone non è vero incredibile io credo che questa visione per voi è molto tocca tanto no perché è proprio la vostra chiamata è questa ma chi è presente in tutto questo non dimentichiamo è questa Madonna quindi Maria con il suo splendore continua ad accompagnare la chiesa nel suo camminare verso la croce cioè Maria è la è la donna presso la croce o come dice la Lumen Gentium nel numero 62 Maria con la sua materna carità si prende cura dei fratelli del figlio suo ancora pellegrinanti i posti in mezzo ai pericoli affani cioè quella visione è proprio credo la Lumen Gentium 62 non è soltanto il Papa che è morto è tutta la chiesa che soffre per grazia di Dio Giovanni Paolo è stato salvato ovviamente non sappiamo se un Papa si era ucciso questo non interessa cioè questo interessa sì ma non è non dobbiamo assolutizzare questo segreto in quella parte è tutta una ecclesiologia una chiesa che si capisce a se stesso come un insieme di gente che pellegrina indietro al suo Papa la unione con il Papa e noi sappiamo che cosa sto dicendo dicendo questo la unione con il nostro Papa che oggi si chiama Francesco ok mi spiego sì è la unione con il Papa sai una delle cose che io ringrazio più al Signore con il messaggio di Fatima è questo amore per il Papa che mi fa oltrapassare discussione o questo Papa sì o quello l'altro no o l'altro sì o questo no sai questo tipo di parole fra di noi chiesa con la grazia di Dio chi vive il messaggio di Fatima non accetta questo discorso perché abbiamo imparato a amare il vescovo vestito di bianco sia con la Madonna sia con la piccola Giacinta che ha visto il Santo Padre per due volte in sofferenza in visioni private e lei non sapeva il nome del Papa ok per lei era l'uguale per quello Papa Giovanni Paolo II che è nato dopo Giacinta è morta ha detto quando va a Fatima a beatificare grazie Giacinta per quello che hai fatto per il Papa questo è grande non lo so se mi spiego un uomo come Giovanni Paolo dire grazie Giacinta per quello che hai fatto per me il Benedetto XVI di lo stesso grazie ai tre bambini per quello che hanno fatto per il Papa e può dirlo perché è vero hanno fatto per il Papa e noi credo che siamo chiamati a imparare con questo è il Santo Padre lo amiamo naturalmente sono tutti diversi ma questo è un livello umano antropologico la fede mi dà uno sguardo diverso mi spiego credo di sì no? oggi si chiama Francesco è il nostro Papa lo ascoltiamo lo amiamo preghiamo per lui facciamo sacrifici per lui ok? perché oggi è questo Papa che quindi questa Chiesa che cammina con il suo Papa attraversando le rovine delle città non allontanandosi ma in mezzo alle rovine sempre con la speranza che nasce della croce della croce che è la unica speranza e la unica forza ok? e con la Madonna che prende cura di noi quindi questo è diciamo così quello che aveva per condividere con voi di questa dimensione mariana del messaggio di Fatima ossia una dimensione personale io mai ti lascerò il mio cuore sarà il tuo cammino il rifugio che ti porterà a Dio una dimensione mondiale si faranno quello che io vi dico si salveranno tante anime e avranno pace una donna che ci invita alla Chiesa a essere quello che è un popolo che cammina con il suo Papa attraversando le difficoltà delle persone camminando sempre verso Gesù che è la meta della storia